Salve carissimi amici di tutubi, sono Francesco e benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Qui Francesco e qui Zio Paperone e quest'oggi parliamo di Topolino 3227, un topolino legato al ciclo Comics and Science ma andiamo con ordine, proprio a partire da questa prima storia del ciclo Comics and Science come dicevo Topolino e l'oscura macchia nera di Fausto Vitaliano per i disegni di Alessandro Perina. Se graficamente parlando, Perina non mi dispiace più di tanto, lo preferisco sui topi che sui paperi però, opinione mia personale, la storia risulta essere più un pretesto per inserirci delle nozioni didattiche per quanto riguarda, per l'appunto, che cosa sia la materia oscura. Questo, perché dico questo fondamentalmente? Dico questo perché la storia inizia con un'applicazione particolare che assomiglia molto a Pokémon Go anche se acchiappano fantasmi fondamentalmente e l'ideazione da parte di questa ditta che ha realizzato questa applicazione di uno strumento in grado di creare buchi neri. Questo, creare buchi neri in un qualche modo, serve a distruggere, ammassare in un qualche modo modificare lo spazio così che dove ci sia la materia oscura non ci sia così che sia possibile inserire fantasmi in giro anche per lo spazio, spazio fondamentalmente. Macchia nera ruberà questa attrezzatura, ovviamente nel mentre avremo tutta una spiegazione del che cosa sia, la materia oscura, che cosa serva, bla 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 Macchia nera ruberà questa attrezzatura e minaccerà la città di Topolini e aspetterà a questo punto a Topolino cercare di salvare la situazione. La storia dei cliché già visti e rivisti fondamentalmente al di là del piano più o meno elaborato e complesso risulta essere qualcosa di già visto, qualcosa che magari può scontentare qualche fan di vecchia data. Sinceramente la storia l'ho trovata molto leggibile, abbastanza seguibile tranne che nella parte più didattica dove mi è sembrata proprio una cosa molto bacchettona, molto inquadrata, vi spieghiamo che cosa sia la materia oscura. Però, giustamente, una storia ogni tanto così ci può stare e anzi è utile per i lettori più giovani. Anche l'articolo immediatamente successivo, che spiega per l'appunto più nel dettaglio che cosa sia la materia oscura, l'ho trovato piuttosto ben realizzato. Uno dei pochi articoli che ho letto su Topolino da diverso tempo a questa parte anche perché, sinceramente, anche io non sono esperto di astrofisica, non sono esperto di astronomia, che cosa fosse la materia oscura perché c'era, che cosa serviva, non ne avevo la più palle di idea. E quindi l'articolo, in fondo, mi ha dato qualche nozione in più. La storia successiva è invece opera di Vito Stabile e Pietro Zemero per i disegni di Federico Franzò ed è Zebo Perone il deposito sotto assedio. Qui ho qualche perplessità. La storia fila bene, funziona bene, l'ho trovato piuttosto divertente, piuttosto fresca e originale. Dei autori, non alle prime armi, ma che sono da poco dentro Disney Italia, stanno scrivendo da non tantissimi anni su Topolino, un disegnatore che, sinceramente, mi pare un nome piuttosto nuovo all'interno del settimanale, hanno realizzato una bella storia Disney, tutto sommato. Una storia che vuole anche esplorare qualche ambito, qualche posto della città di Paperopoli, inserendo anche qualche easter egg in qua e là. L'unica perplessità che ho, tutto sommato, è legato a due elementi principali. Il primo è il fatto che alla fin fine è uno sconto tra robottoni contro tantissime persone, col deposito corazzato che meno a destra manca tutti i criminali di Paperopoli per cercare di proteggere il deposito, per l'appunto. L'altro è l'escamotage finale che utilizza Archimede per salvare Caprecavoli, salvare il deposito, fornendogli energia. Quello che viene fuori è un vero e proprio tentativo di raccolta fondi da parte di Archimede per permettere al deposito di sopravvivere all'attacco dei criminali. E la cosa è straniante perché perché mai, cioè, logicamente parlando, perché Archimede dovrebbe avere... Ce l'ha perché ce l'ha dall'inizio dell'albo, dall'inizio della storia, quindi era l'elemento che è stato inserito apposto. Però fa un po' sorridere pensare che quello che Archimede faccia alla fine sia diventare un fundraiser per cercare di raccogliere fondi, per salvare il deposito di Zio Baperone, che considerando quanti soldi ci sono al suo interno... Cioè, io per primo non avrei dato una lira, fondamentalmente, però capisco tutto il discorso che ci sia dietro, capisco che sia per far funzionare la storia, e la storia funziona. Tutto sommato l'ho trovata al di là di questa qui, che sembra una critica grosso, ma in realtà è semplicemente una cosa che mi ha fatto sorridere, considerando cosa faccio di mestiere, che quindi mi fa un attimo... Aspetta, ma perché dovrei farlo? Però al di là di questo, la storia funziona. Si prosegue con Paperino e l'equivoco del romp di Monica Manzoni e Maurizio Mendola. Graficamente parlando, Maurizio Mendola non mi fa impazzire, lo trovo un tratto... comunque uno stile di disegno un pochettino vecchiotto, però funziona. Cioè, niente da ridire. La storia di per sé è tutto un equivoco sul fatto che Paperino vuole lavorare per un'agenzia che testa Materassi. Per farlo bisogna un certificato chiamato RONF, e arriverà qualcuno che farà questa certificazione dal RONF stesso. Però i RONF sono più, a quanto pare nel corso della storia, avremo a sapere che ci sono più RONF che fanno cose diverse. Quindi l'equivoco nasce dal fatto che la stessa sigla, RONF per l'appunto, viene utilizzata in più ambiti. Una scusa piuttosto banalotta, tutto sommato, che porta a delle gag che riescono fondamentalmente. Si tratta di una storia di media lunghezza, che però nasce da un presupposto che è un pochettino deboluccio, a mio parere. Però funzionare funziona, e come storia di intermezzo potrebbe... Ecco, non ho riso tanto, ce l'ho trovata una storia che sono sicuro che avrebbe dovuto, nell'intenzione dell'autrice, fare ridere, e non ha fatto ridere quanto speravo. Mentre invece continua ottimamente la sezione dei minigiali di Marco Bosco per i disegni di Davide Baldoni, in questo caso rapina a domicilio. E c'è poco da dire, questa miniserie, questa piace. Mi piace perché, vabbè, non vuole far ridere perché non vuole essere comica. Però nel suo... è una miniserie intelligente, che comunque cerca di far attivare i neuroni del nostro cervello, nel cercare di risolvere un caso giallo, che ci viene proposto in una maniera... è piuttosto semplice, sono sempre piuttosto semplici, perché sono delle brevi storie, quindi vediamo due, tre personaggi, quindi sono loro i sospetti. Però, perlomeno, c'è questo gioco al cercare di capire che cosa sia realmente successo. E in questo caso qui funziona sicuramente meglio della settimana scorsa, ha dei disegni estremamente piacevoli. E, ripeto, a me una storia più seria di Topolino, con basettoni, manette e roxassi, anche lunga, non dispiacerebbe affatto. Conclude una storia danese intitolata Papernicche, l'ombra su Isola del Sole, di Andrea Phil, per i disegni di Fleming Henderson. Al di là del punto di vista grafico, che può piacere, perché il tratto di Anderson non mi pare affatto brutto, la storia è di una lunghezza spropositata, per quello che deve raccontare, almeno per quanto mi riguarda. Papernicche e Pico vanno su questa isola, dove ci sarà un supercriminale, che avrà bisogno di un aiuto, e avrà chiesto l'aiuto proprio di Pico de Papernicche, che andrà lì, proprio con Papernicche, per creare una macchina in grado di distruggere, devastare, e modificare il clima dei posti in cui ci si trova. Solito cliché, una storia che secondo me è anche piuttosto lunghina, però tutto sommato ci può stare. Ecco, un topolino che sinceramente lo reputo abbastanza, in una media medio-bassa dei topolini, insomma, questo trend che secondo me è stato piuttosto positivo durante l'estate, a parte un paio di cali, si sta abbassando un pochettino. Ovviamente si vuole puntare molto sulle kermesse del Romics e del Luca Comics, quindi avremmo un periodo piuttosto forte in quel momento, e invece in questa fase dell'anno abbiamo, a parte forse una storia di richiamo, che era il deposito sotto sedio, poco altro fondamentalmente. Nei prossimi numeri avremo comunque l'occasione di vedere una storia ambientata a Paperopoli, legata al ciclo I love Paperopoli, se vogliamo chiamarlo ciclo, e spero sia comunque all'altezza della situazione. Detto questo, noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!